In giunta poco fa abbiamo confermato all'unanimità la partecipazione, l'adesione e la partecipazione di Regione Lombardia al Family Day in programma per il 30 gennaio prossimo. Siamo felici che abbiano aderito a questa iniziativa anche la Regione Liguria e la Regione Veneto che hanno confermato proprio nei giorni scorsi più o meno le stesse modalità operative di Regione Lombardia quindi l'invio del gonfalone e la partecipazione di tutte e tre le Regioni attraverso una delegazione costituita da assessori e consiglieri regionali. Passando a come si strutturerà questa partecipazione abbiamo già detto che ci sarà una delegazione della Giunta e del Consiglio, la presenza del gonfalone regionale così come era stato annunciato giorni fa dal Presidente Maroni e l'esposizione sulla facciata di Palazzo Pirelli della scritta luminosa che recherà l'insegna Family Day. Ecco queste erano già iniziative a cui stiamo lavorando da giorni e la Giunta che si è appunto riunita stamattina ha confermato tutte queste tre iniziative all'unanimità. L'obiettivo del Comitato è che il disegno di legge venga ritirato in toto completamente cioè che non ci sia nessuna forma di stralcio dell'articolo 5 perché il problema del disegno di legge è l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio che produce tutta una serie di conseguenze negative fino all'ipotesi dello sdoganamento dell'utero in affitto ma la radice è l'incostituzionalità di un disegno di legge che equipara al matrimonio fra un uomo e una donna un altro tipo di formazione. Questo è quello che chiede il Comitato che si è costituito e che è all'origine di questa seconda grande manifestazione del 30 gennaio. Rispediamo al mittente le critiche di aver preso parte ad iniziative di parte perché penso, e lo dicevo anche in un'intervista mentre venivo qua, penso che chi governa abbia anche il diritto di prendere posizioni soprattutto su disegni di legge nazionali o comunque all'esame del Parlamento che possono in qualche modo contrastare quello che rappresenta i valori in cui una amministrazione, una regione crede e che porta avanti con passione. Quindi mi stupisco che se un comune come quello di Milano aderisce alla manifestazione diciamo opposta al Family Day va bene, non vedo perché se la regione aderisce al Family Day debba scatenare tutte queste polemiche.